Questo docufilm è nato grazie alle ricerche continue e storiche del regista Mauro Vittorio Quattrina e è partita da questa fotografia che ha detto devo raccontare la storia di questa bambina questa bambina che porta sulle sue spalle una storia molto importante, molto pesante e che raggruppa un po' tutti gli esuli, quindi non è solo la sua storia, la sua storia è simbolo e poi parla anche di altro, e Gea Hafner, questa bambina con la valigia che questa fotografia è stata fatta proprio il giorno della sua partenza da Pola e questo zio che gli ha messo in mano questa valigia, l'ombrellino e gli ha messo questo cartellino con esule, strianado e allora è diventata il simbolo grazie anche al Museo di Rovereto che sono stati i primi ad organizzare una mostra su questo argomento qua Abbiamo voluto per questo patrocinare come Consiglio regionale questa iniziativa la presentazione a Verona venerdì 7 al Teatro al Cinema Le Stimate di questo docufilm che racconta la storia di una bambina che è diventata un pochettino il simbolo dell'esodo degli italiani dopo inseguiti, sterminati dai partigiani jugoslavi e quindi proprio nel giorno del ricordo riprendere anche senza faziosità, senza una testimonianza di associazioni ma quelli che sono stati i sentimenti e la storia che ha vissuto una bambina ai 4 anni in quell'epoca